Grande partecipazione domenica mattina a San Gataldo, al palazzetto dello sport Peppe Maira, per gli appassionati del coscido budo, l'arte marziale che cerca di sintetizzare le più note tecnico-orientali ma che come pratica ha origine siciliane e ha come fondatore il maestro Michele Lattuca. Il coscido budo, tramite una legge della regione siciliana, è stata riconosciuta come disciplina sportiva e proposta educativa in quanto originario della Sicilia, essendo nato e sviluppato nel territorio della regione. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, il riconoscimento da parte della regione finalmente qualcuno dall'alto che ci guarda e siamo stati riconosciuti appunto come metodo educativo, il motivo per cui 27 anni fa ho creato questa disciplina cioè rimarcare il fatto che le arti marziali sono un mezzo, non infine, per far crescere l'uomo nel suo essere, nella sua dimensione più profonda. Questa legge che ormai è una realtà ma lo era già da prima perché in effetti quest'arte, questa disciplina avevano già le radici profonde e grazie appunto alla legge adesso è riconoscibile, è riconosciuta e diventa veramente un segno distintivo di una cultura positivissima soprattutto nei confronti di centinaia, direi di migliaia di giovani che oggi anche qui incontreremo e che ci fa capire come a volte basta poco per dare risalto, dignità e valore alle azioni delle persone sul territorio. Io sono contentissimo di quello che sta facendo il maestro Lattuca e tutti i suoi collaboratori è una realtà stupenda, continueremo a sostenerla anche con altre misure, gli stiamo accanto pensate che sta per diventare addirittura una materia di un percorso di studi universitario quindi è veramente il massimo che si poteva ottenere. È esportata in tutta Italia, oggi abbiamo ospiti anche dalle Mille Romagna quindi è veramente una grande soddisfazione dare un contributo al territorio e alle persone che lo vivono così in maniera importante.